ciao da andrea ti do il benvenuto questo nuovo video di aggiornamento relativo ai miei rendimenti questo è il quinto video che pubblico sull'equity line di un mio conto reale adesso ho approfittato del fatto mercati fermi mi sono preso due minuti per farlo stavo dando solo un'occhiata ai grafici daily quindi giornalieri andiamo subito ad estrapolare questa equity line ora erano quattro mesi esatti che non aggiornavo i rendimenti esattamente era a metà giugno per la precisione era l'undici questa settimana ho ritirato quindi anche in modo abbastanza corposo partiamo dal 16 quindi fino a oggi è il 17 ottobre 2014 va bene così confermiamo e andiamo a salvare come rapporto dettagliato salviamo nella cartella sistema forest come al solito aspettiamo che lo crea eccolo qui il 17 ottobre 2014 apriamo l'equity line eccola qua questa è la mia equity di quattro mesi di operatività per un totale di 225 operazioni adesso praticamente sono oramai un anno e mezzo come a livello temporale che pubblico la mia operatività questo è quanto ti auguro una buona continuazione e alla prossima ciao 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 ciao